Sono partite in quattro e sono rimaste in due. Sabato, domenica e lunedì sono scese in campo le quattro rappresentative abruzzesi che hanno chiuso la fase a Gironi con un bilancio positivo a metà. L'Under 15 approda i quarti di finale grazie a tre vittorie. In questa categoria l'Abruzzo può freggiarsi di essere l'unica squadra a chiudere la prima fase a punteggio pieno. All'esordio Rebega, giocatore della Gretano Bonolis, ha deciso la gara con il Molise. Sigranno una doppietta per il 2-0 finale. Domenica gli altri tre punti sono arrivati grazie al 3-1 rifilato a Trento. con la doppietta di Ettore e il gol di Nani. Mentre nell'ultimo impegno contro i padroni di casa della Liguria mettono la firma sul tris il talentuoso Mungà e Rebega, nuovamente autore di una doppietta. Sorride meno l'Under 17, non basta infatti il gol di Giucchedi per superare la Liguria nell'ultima delle tre sfide e con un solo punto in tre partite gli abruzzesi devono rinunciare al passaggio del turno. Nell'Under 19 Valerio, con una rete nella ripresa, ha piegato di misure campioni in carica regalando il pass ai suoi. Una formazione solida, capace di attendere e di affondare il colpo e pronta per affrontare i quarti di finale. Meno fortunata la femminile, che non riesce a superare la fase a Gironi e lascerà Genova insieme ai 2007. La favola invece continua per i più piccoli, che affronteranno la Lombardia, gara fissata per domani alle 11 allo Stadio Ferrando di Genova. Alle 15 invece scenderanno in campo i più grandi, che si troveranno davanti la Calabria al San Rocco di Recco. In caso di vittoria sarà semifinale, prevista entrambe per la giornata di giovedì, dove ci sarà l'opportunità di guadagnare la finalissima della sessantesima edizione.